ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale la taverna dello svapo ad un nostro nuovo video io come al solito sono gabrie io birillo oggi andremo a presentare un nostro liquido nuovo vai birillo esponicelo questo è un liquido che abbiamo preso al vappi italy il dinner lady lemon tart dovrebbe essere una torta andiamo a fare la recensione di questo liquido a sentire cosa riusciamo a individuare dei suoi liquidi allora facciamo vedere prima la boccetta del liquido carinissima piccolina gialla spettacolare con il suo cammino fatta bene vai allora diritto a gabrie io diritto su bra al pers subito si sente il limone però si sente anche la torta adesso andiamo un biscotto si si un biscotto vai gabrie tanto buona a me mi ricorda la torta d'anno uguale è come quella che prende al ristorante è buonissimo è buonissimo buono bello c'ha forte sapore della crema degli limone legato anche la torta si sente bene si 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 miscelato proprio bene davvero tanta roba che voto ci dà gabrie a questo liquido molto alto ci dò un otto io mi piace anch'io l'otto perchè si sentono proprio tutti i gusti che ci sono dentro si sono belli miscelati bene ti danno un bel colpo buono e ti rimane anche un buon sapore buono si concordo concordo un buon liquido me lo consigliamo me lo consiglio ok ora volevo fare un pezzettino spiegare un attimino calabria svapo si è un gruppo che c'è su facebook andatelo a vedere se vi volete scrivere l'admin è carmine alias che è il te dello svapo però il nome del gruppo è calabria svapo si e questo gruppo è aperto dal 23 febbraio e oggi c'ha 7200 iscritti sono tanti è un bel gruppo mettono delle belle foto si parla di svapo si parla di svapo tutto l'argomento sullo svapo se vuoi mettere una foto di box di liquido cosa stai svapando fare a vedere alle persone curiose sullo svapo con cosa stai svapando è un bel gruppo dove postano tante cose se lo volete seguire seguitelo e invitiamo a scrivervi noi siamo iscritti già e se anche gli iscritti se vogliono vedere il nostro video sono ben accetti guardate se vi piace mettete un like iscrivetevi al canale e niente questo è tutto noi vi salutiamo come al solito se volete passare dal nostro regolazio di fiducia al svapo caffè rimane sempre a spezia a moliciara e da terreno dello svapo è tutto un saluto ciao ciao